Bentornati a tutti dal vostro tecnomaniaco. In questo nuovo video andrò a spiegarvi come eliminare lo sfondo da una foto e come creare dei fotomontaggi con PixArt. Se non ce l'avete ancora sul vostro smartphone, scaricatelo dal Play Store. Andate poi nella vostra galleria e scegliete una foto a cui volete togliere lo sfondo. Io per esempio ho preso questa foto che ho scattato recentemente in un bar e cliccate poi sul tasto condividi e premete PixArt. Una volta che l'app si sarà aperta andate sull'opzione ritaglia. Notate se l'azzo è selezionato e iniziate a tracciare i bordi intorno alla figura a cui volete togliere lo sfondo. Ecco qui, non vi preoccupate se non siete precisi perché tanto l'app vi aiuterà e potrete comunque effettuare delle modifiche in seguito. Se non è andato tutto nel verso giusto, come in questo caso, potrete aiutarvi a ridefinire l'immagine premendo sulla gomma ed eliminando le parti che volete cancellare e sulla matita sulle parti che volete lasciare. Il consiglio che posso darvi per velocizzare l'operazione e cercare foto in cui il soggetto che volete utilizzare per il fotomontaggio ha uno sfondo omogeneo dietro di sé. Sembrerà assurdo ma ormai le app stanno quasi sostituendo quello che faceva prima un computer. Infatti queste operazioni le avremmo dovuto effettuare con Photoshop. Quando pensate di aver fatto un buon lavoro, cliccate in alto a destra su Salve. Adesso la vostra immagine senza sfondo è pronta. In automatico la nostra immagine sarà salvata nel menu adesivi dell'app, ma possiamo decidere di salvarla anche sullo smartphone. Per farlo dovrete semplicemente cliccare in alto a sinistra. Vediamo se è selezionato Salvalo come un adesivo e finalmente la prima parte del nostro tutorial è completa. avremo nella galleria la nostra immagine senza sfondo. Per creare successivamente un fotomontaggio con la foto appena creata, torniamo sull'home page di PixArt, clicchiamo sul più e poi su modifica le foto. Scegliamo una nostra immagine o uno sfondo preimpostato di PixArt. Io ho scelto per esempio queste ciambelle nello spazio. Adesso sarà tutto molto facile, ci basterà cliccare sulla barra laterale nella sezione adesivi e troveremo la nostra foto appena creata e possiamo posizionarla nello schermo, anche andandola a modificare e a regolare luminosità, contrasto, saturazione e tutti gli altri parametri. Ovviamente nella stessa foto potremo inserire anche più di uno stickers. E quindi pensate che potreste creare dei fotomontaggi simpatici con personaggi e cantanti famosi. O potreste anche ritagliarvi e incolarvi in una spiaggia tropicale o in una grande metropoli americana. Se la foto e il ritaglio sono fatti bene potrete creare degli ottimi risultati. Vi ricordo che se avete qualche dubbio commento riguardo al video c'è lo spazio qui sotto. Alla prossima ragazzi! Grazie a tutti!